Il trofeo 20.000 aggiunto alla non edizione conferma l'ascesa delle donne nel campo dell'enogastronomia e della sommelierie. Ad Alasso, nella città del Muretto, le alunne dei migliori istituti alberghieri italiani si sono aggiudicati i primi posti. L'alberghiero di Siacusa Federico II di Svezia, rappresentato dalle alunne della Quinta A, Ristorazione Francesca Mangiafico e Sara Parisi, accompagnata dal professore Bongiovanni, insegnante di Sala Bar, conquista il secondo posto nella prova dedicata alla preparazione del cocktail arancindi a base di succo d'arancia, rosolio, alficodindi e gin. Il cocktail preparato dalla Lunga Parisi ha deliziato il palato dei giurati sorprendendoli con la decorazione di stringhe di buccia d'arancia. Ciò ha consentito di conquistare il secondo posto del trofeo I-Best Cocktail Competition con 334 punti. Nella prova al Flambè la Lunga Mangiafico conquista con 292 punti il quarto posto del trofeo Amiga e Ais, l'altra delle trinciare con il piatto Fragole Tricolore, uno splendido connubio di colori e sapori della terra siciliana.